C'è una problematica molto grande, il contratto di lavoro è scoperto da tre anni e mezzo e non hanno intenzione di rinnovarlo. Oltremodo chiedono un rinnovo degradante nei confronti dei lavoratori. Il comporto dei tre giorni lo vogliono eliminare da parte dell'azienda, vogliono allungare il riposo settimanale a 14 giorni. Problematiche veramente abbastanza grave. Questi sono lavoratori che fanno un lavoro delicatissimo, importante, sono davanti a tutte le sedi istituzionali, sono davanti alla regione, davanti agli ospedali, sono nelle principali fabbriche a garantire la sicurezza e lo fanno con uno stipendio fermo da anni, in condizioni molto precarie perché ad esempio il contratto deve essere rafforzato anche dal punto di vista del cambio appalto, quindi dalla tutela occupazionale del posto di lavoro, invece le richieste dell'azienda vanno nel senso assolutamente opposto. Mani libere, malattia pagata meno, meno giorni di malattia consentiti, quindi sono inaccettabili.